Secondo l'Associazione dei consumatori di Terramor Robin Hood, sono numerosi cittadini che non sono a conoscenza della possibilità di essere esonerati dal pagamento annuale del Canon Rai pari a 90 euro. Secondo un'indagine campione condotta dall'Associazione infatti è emerso un dato non confortevole, visto che sono tanti gli utenti che non sanno che per non pagare la tassa sulla televisione occorre presentare ogni anno un'autocertificazione. C'è tempo fino al 31 gennaio per consegnare i documenti necessari. L'Associazione Robin Hood ricorda che è possibile essere esonerati da questo pagamento se in casa non ci sono apparati atti alla ricezione, se per lo stesso nucleo familiare ci sono più contratti energetici e dunque si potrà scegliere con quali di essi pagarlo nel caso in cui sia riscontrato il decesso di parenti con contratto luce ancora attivo e anziani over 75 titolari di reddito non superiore agli 8 mila euro. Purtroppo siamo un popolo di sudi per cui non basta dichiarare una volta il fatto di non avere l'utenza oppure di avere più utenze intestate a più soggetti dello stesso nucleo familiare, ma ogni anno bisogna ripresentare questa domanda con la solita raccomandata, le spese e tutto il tempo che questa cosa comporta. Sarebbe molto più semplice, noi da anni lo diciamo, fare la dichiarazione e quindi quella dichiarazione vale fino a tanto che non viene modificata. Quindi quando io modifico il mio status comunico che ho modificato il mio status e quindi si rischia, si toglie anche la possibilità, come è accaduto l'anno scorso, che molte a caso del Covid non hanno potuto fare la dichiarazione e quindi hanno pagato due volte il canone euro e la cosa non mi sembra giusta. Sono anche molte le persone che non si ricordano di fare questa dichiarazione. Sì, noi ne facciamo oltre 200 dichiarazioni e puntualmente quando chiamiamo le persone per farla cadono dalle nuvole perché dicevano ma che dobbiamo fare? Quindi ciò è testimone del fatto che appunto è una scadenza non impropria diciamo. Ricordiamo che voi siete ovviamente a disposizione delle persone per presentare la domanda. Sì, assolutamente sì, chiaramente vengono pochi giorni e quindi bisogna affrettarsi. Grazie. 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 Grazie.